L'agricoltura è spiegata ai giovani dai giovani, un evento organizzato a Martignana sabato pomeriggio da Anga, la sezione giovanile di Confagricoltura, con una dimostrazione in campo e sul campo e una giornata conviviale andata avanti fino a sera tra apericene e musica. Siamo qui in campo oggi a Martignana di Po, località Ponte Morra, per l'evento Anga in campo. È il primo evento organizzato dall'Anga di Cremona di questo tipo. È un evento dimostrativo dove facciamo vedere a tutti i ragazzi dell'Anga e a tutti gli appassionati del settore le ultime novità nella minima lavorazione del terreno. Abbiamo coinvolto vari concessionari della zona che hanno portato tutte le ultime novità in termini di trattori molto avanzati con tecnologia 4.0 e satellitare. Abbiamo anche tutte le ultime novità in relazione alla lavorazione del terreno, dalle dischiere, preparatori combinati e alle seminatrici ad alta precisione. Questo è un grande vanto per noi perché è un evento che ha riscosso un grande successo, sta riscuotendo un grande successo e quindi pensiamo di replicarlo con l'anno prossimo. Al termine della dimostrazione abbiamo anche organizzato un evento conviviale per fare un po' di team building e un po' di festa tutti assieme. Buona la partecipazione valutando che si trattava appunto del primo evento di questo tipo con ottimo coinvolgimento del territorio e dei concessionari di zona.